Senti ma adesso so che c'è una Sabrina Ferilli che è diventata conduttrice Sabrina, complimenti Sei un artigiano della qualità Un artigiano vero Fabrizio Io non so nient'altro che dire Siete tutti artigiani della qualità Artigiani veri Grazie Sono proprio molto contenta di stare qui dagli artigiani della qualità Grazie Sabrina Grazie di cuore